Senna, ci sono un po' di problemi, probabilmente per questi punti da non poter scartare, oggi doveva essere un primo posto ovviamente. Doveva, però è stato un secondo e va bene così, sicuramente prima della fine dell'anno devo contare con qualche secondo, spero, e teniamo questo come uno di quelli che ho bisogno e le due prossime gare penso che la nostra macchina andrà molto bene, lì cercherei da fare il migliore possibile per la vittoria, però oggi Nigel ha guidato un buonissimo, ha avuto la macchina messa a punto giusta, era molto forte, ha avuto l'opportunità nell'impisodio con Johansson, ha vinto e ha meritato. Quindi tutto bene quello che finisce bene, dici che sia l'unica crisi questa qui nostra, sì? Eh, questa forse era la più dura per noi, per le condizioni della pista e le adaptazioni del nostro telaio.